Lo splendido patrimonio pubblico di Varenna resti tale. Nel dibattito sulla vendita di casa Fiume Latte a Varenna scende in campo Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del PD, comprato attraverso un'asta pubblica a rialzo da un facoltoso imprenditore argentino già proprietario di altri immobili sull'Ario. Si è giudicato alla proprietà, che fa parte del compendio di Villa Monastero per 1.100.000 euro, più del triplo rispetto alla base d'asta che era di 325.000 euro. È incomprensibile la scelta della provincia di Lecco di vendere gli immobili di Fiume Latte, spiega Fragomeli. La sponda lecchese si fregia già da anni dalla proprietà pubblica, composta da comune, provincia, camera di commercio, di importanti beni architettonici, da Villa Cipressi a Villa Monastero, che ne consentono l'accessibilità regolamentata da parte di tutti e non solo l'esclusiva di qualcuno, a causa dell'ennesimo acquisto immobiliare da parte di facoltosi italiani o stranieri che poi ne chiudono i cancelli, privando la comunità di queste bellezze. La messa in vendita degli immobili di Fiume Latte prosegue Fragomeli, a fini di residenza privata, oltre a interrompere il tratto di fruizione pubblica del compendio di Villa Monastero, è in contrasto con la destinazione urbanistica prevista dal comune di Varenna e già dichiarata dal sindaco Manzoni. Mi chiedo quindi come si sia potuto fare una manifestazione pubblica di vendita da parte della provincia senza definire a priori i possibili utilizzi futuri. Inoltre, Villa Monastero necessita di spazi dedicati ai servizi per l'attività convenistica e non si capisce perché non utilizzare proprio gli immobili esistenti di Fiume Latte e appartenenti al medesimo compendio della villa. Ceduta a un privato, ma dunque ad uso pubblico, come si leggerebbe sul certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Varenna negli atti dell'alienazione. La scheda d'ambito esclude qualsiasi destinazione non riconducibile a un interesse pubblico o a un servizio del personale di custodia, spiegano i consiglieri del gruppo La Provincia-Territorio-Benecomune, che hanno presentato un'interrogazione, così come aveva già evidenziato Antonio Rusconi, che da subito aveva sollevato il problema spiegando che solo una modifica del PGT avrebbe consentito di agirare all'ostacolo. Da parte sua, l'amministrazione provinciale ribadisce che la destinazione dell'immobile è residenziale e non esiste alcun vincolo abitativo. Mentre si prepara a mettere in vendita anche una seconda villetta, poco distante da quella al centro del dibattito. Intanto è stata adottata la determinazione utile all'aggiudicazione in pubblicazione sull'albo online e sono stati trasmessi gli atti al notaio, segnalato dall'acquirente, per perfezionare entro giugno la vendita.